a ah stani stani dammi la mascherina non vedo una sciega 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 ma tu c'hai quella trasparente è trasparente quella o no? c'hai un po' di risposta eh qui è il problema non si capisce niente vai 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 ma io mi sono sempre chiesto perché giocare un maestro se tu puoi non lasciare poi ti aggreghi a uno fai finta di non essere con lui però in realtà sei così non ti da consigli però esatto esatto guardate 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 ah bravo bravo io uscirò dalle reti adesso ok no ma lì lì non ci resta ci vediamo al piano E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? il gioco 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 è molto bene il gioco il gioco il gioco hanno bisogno il gioco ma ci vediamo ragazzi al dove volete andare quindi andiamo a prendere con la rosa mi vedrete quando fate quando fate la curva qua poi c'è il muretto mi vedrete se sono ancora vivo a dopo ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti